L'incidente via Busano a Fabria nel primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre, poco dopo le 14, a scontrarsi una Seat Leone e una Forfiesta. L'impatto è stato alquanto violento. La Leone è finita in mezzo al prato, decente alla corsa opposta, mentre la Fiesta ha terminato la sua corsa qualche metro più avanti, in mezzo alla careggiata. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Rivarolo Canavese e i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea. Lievemente è ferito il conducente della Fiesta, che è stato trasportato all'ospedale di Cornier, il leso e l'altro conducente. L'accertamenti sulla dinamica al valio dei carabinieri. I danni sono tanti. Almeno un'autonda.